Riprese di Stephen Bikowski Tributo vocale al defunto David Ray Griffin, pioniere, critico indispensabile del Movimento della Verità dell'11 settembre. Non sono riuscito a trovare nulla su Stephen Bikowski, che ha girato questo video. Non è stato riuscito a trovare nulla, e non è stato riuscito a 4 o 5.30 la mattina. La scuola permaneva così impossibile a raccontare, excepto come controllo demolizione, che il 9-11 commissione report non ha mai mentionato, come se il collo di una 47 storia non è vero di commento, e ha solo fissi sui numeri 7 e 12. Quattro, quattro. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione